Italia 1 Giura che vibrai e governerai con pietà Lo giuro Un giovane re, ingrato e crudele Per amor del cielo, liberatelo Un cavaliere e un drago, dapprima nemici Perché ve la prendete sempre con noi draghi? E poi insieme, per riportare la giustizia nel regno E con quale esercito, cavaliere? Dragonheart, giovedì alle 21.05, su Italia 1 Mi ha mandato in bianco Oh, guarda che rossi! Dolcezza! C'eri con noi? Aspetta, aspetta! Com'è densa! Passata di pomodoro mutti Mai vista una passata così Nei periodi di massimo impegno possono mancare le vitamine In questi casi puoi aiutarti con Supradin Il multivitaminico con minerali, utile per ricaricarti di vitamine Eumedicinale Legger attentamente il foglio e l'otratico Il contatto umano Un gesto d'affetto L'informazione Sono parte della cura 627 associazioni e 23.000 volontari in Italia Si impegnano ogni giorno per migliorare la qualità della vita dei malati di cancro Per vincere la paura E continuare a combattere Sentitevi liberi di migliorare la vostra vita Con Ducato Zappi Estinzione senza costi Rata modificabile Ducato Zappi Il prestito che ti lascia libero Non c'è vacanza senza spiaggia isolato Non c'è partito senza trucco sotto Fai come milioni di italiani Chiama al 1288 per sapere hotel, ristoranti e tutto per le tue vacanze Chiama al 1288 Con panorama Cameraten Le Sturm Trooppen sono pronte all'invasione Sturm Trooppen, il fumetto cult Dieci libri in un elegante formato da collezione Il primo volume è solo un euro Cameraten, parlate l'inglese Come dei cretini Tedesco, francese e spagnolo I dizionari Pocket Si parte con inglese Solo con panorama Mirabilandia Divertimento per tutti Tutti i giorni Vivi il divertimento E non dimenticare A Mirabilandia il giorno dopo Entri gratis I materiali che getti via oggi Vanno a finire nel futuro di tuo figlio Ma se tu separi in casa la plastica, la carta, il vetro, l'alluminio, l'acciaio, il legno Ci aiuterai a dargli una nuova vita Perché con Ai siamo noi e voi insieme Insieme Per un futuro più leggero Senza il peso dei rifiuti Tante palline di gelato alla vaniglia Ricoperte di cioccolato Maxi Bon Pops Più Pops is meglio che One Per un тиок Per un' nigga Inminio Super Grazie a tutti. Crema riso Müller. La leggerezza del riso, la cremosità del latte. Crema riso, per una pausa finalmente perfetta. Crema riso Müller. Fate l'amore con il sapore. Ci vuole una bella grinta per essere mamme oggi. E ci vuole un'idea. Fiat Idea. Molto volume, molto tosta. Da 12.800 euro. Nuova Bex Next. Gusto morbido. Quando hai gambe così pesanti, doloranti, che non le senti più, scegli Antistax. Grazie ai flavonoidi contenuti nell'estratto di vite rossa, Antistax aiuta a rafforzare le pareti delle vene. In capsule in gel per gambe attive e vitali. Antistax. Dalla vite. Gambe vitali. Quel giorno dal mare è arrivata la fine. L'onda ha trasformato tutto in niente. Poi, dal niente, siete arrivati voi. Le vostre firme si sono trasformate in barche e reti. Barche e reti, capaci di crescere figli e pescare sorrisi. Con l'otto per mille alla Chiesa Cattolica, avete fatto molto per tanti. Taglia uno. A 14 anni lavoravo già in teatro e nelle previsioni private. Dicevano che sarei finita a mare. Sono stata la prima donna a condurre un programma sportivo. Dopo un po' hanno cominciato a dire che ero tutta umbletta, tutta rifatta. Ne sono successe cose nella mia vita. Ma credetemi, non è facile essere sempre guardata come se fosse una strega. Prossimamente su Italia 1. Grimilde.